Pronti, siamo qua! Il solito buongiorno, il solito buono, mi parlo, mi parlo stamattina, si respira bene, la Pia, se interessa, è uscita dall'ospedale ed è non a casa, ma in una casa di cura, in fase di transizione, quindi alla Pia se la mi guarda, adesso che non l'è più a Roverello, un augurio da tutti noi. Allora, veniamo alla situazione politica. Referendum italico, una grande confusione. Allora vi dico una cosa, a proposito del referendum, ve l'avevo detto l'altra volta, che sia Parisi che l'ha seduto, che mi guarda, è sottoscritto abbiamo ricevuto per email dall'onorevole Ottobre il testo del referendum, cioè della legge costituzionale. 355 pagna, tre risme decanto, non le finiva più di venire fuori, di chi ragazzi che mi si rompe la... come si tratta? Il fax? Ecco, le abbiamo lette attentamente, guarda, eccetera. Adesso, quando parlo con qualche duastia, mi dottor voto contro perché mi l'Italicum non va bene, ma non che c'entra l'Italicum, monedetti l'Italicum, l'è un'altra roba. Il referendum è sulla legge costituzionale. A parte il fatto che oramai non è più, non è più, un voto sul referendum, le cose si sono andate. Io non posso farlo, evidentemente è neanche il capo dello Stato, se no avrebbe la pena di prendere il referendum, gli vado a putere il referendum, se il voto è un'altra volta, adesso, votezza, che siete lì? Io direi, se vuole a Renzi, lo vuole a Renzi, perché è finita così. Mi pare che le cose sono proprio andate a finire così. Per cui se è che il Senato, non è che il Senato, non è che il Renzi è antipatico, perché ha i dentini in fora e perché il Croce lo toglie in giro, quel Renzi proprio va da mi spiace, ma a me non mi va so. Ma a me non mi va so neanche la camuscia, se devo essere sincero. A me non mi va so neanche il D'Alema, non mi va so neanche il Fasina, non mi va so tutto quel gruppo di persone che non si capisce per quale motivo votino no, io non riesco a capire. Ma su Bersani mi è nato un dubbio, siccome è stato operato il cervello, che potrebbe esserci stata qualche leggera alterazione, perché non mi pare che nel suo modo di parlare sia completamente a posto. Ma a parte Bersani, tutte queste persone, insomma, barcollano, 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 e quindi Renzi no. Ma l'italicum non c'entra, perché l'italicum è una legge elettorale. Ma sentite la porcata, perché per me è una porcata. Ho detto a Montrentin, navacada. Allora, diciamo cosa è successo. Hanno fatto la legge elettorale. E tutti dicevano, ah, bisogna, specialmente le sinistre, che vuole il doppio turno alla francese, che vuole il doppio turno alla francese, perché il doppio turno alla francese è il migliore. E ha fatto la legge sui comuni. La legge sui comuni è fatta sull'italicum, perché l'italicum rispecchia esattamente quello che succede con i comuni. Con i comuni abbiamo visto che prima col proporzionale era un gran casino, tanto per parlare se c'è l'italicum, perché il sindaco eletto, fate conto, dopo sei mesi, sette mesi, begheva la coalizione, il sindaco deve la dimissione, altra roba. Hanno fatto questa legge sul proporzionale, sul voto, come si chiama il voto, come si possiamo definirlo? Sul ballottaggio. Se no che avete l'aiuto di più di questi due, sarei un uomo morto. Allora, il ballottaggio. Ma cosa è successo? Io credo che tutti voi l'avete già capito. È successo che si è accorti che il Movimento a 5 Stelle, a 5 Stelle, il ballottaggio potrebbe andare al governo. Allora hai cominciato a sollevare il problema proprio coloro i quali fino all'altro giorno io ho sempre detto che il ballottaggio alla francese era la miglior cosa. Ballè, ballè, non è vero, non è vero, non è vero, non si può andare avanti così, perché le preferenze, come preferenze? Ma dico, se c'è qualcuno che mi ascolta e si ricorda quando si votava con le preferenze, mi fa la cortesia di seguirmi e di dirmi se dico sbagliato. Allora, cosa succedeva? La democrazia cristiana faceva una scelta, naturalmente tra coloro i quali erano fedeli, e ne sceglieva 30. Ma di questi 30 però sapevano già le persone che sarebbero state elette, perché di sottobanco poi facevano uscire una lista di persone, o quei due o tre, che dovevano essere eletti. Quindi il popolo, la gente, non è che scegliesse tanto, perché c'era già una selezione di partiti che non veniva a dirmi adesso D'Alema che il popolo non può scegliere, Fassina veniva a dirmi che il popolo non può scegliere, Salvini che il popolo non può scegliere, Berlusconi il popolo possibile. Ma dov'è che sceglieva il popolo? Dove? Dove? Quando c'era i partiti tradizionali hanno sempre fatto una lista di 30 persone che erano scelte dal partito. E su queste 30 persone c'erano poi alcuni che erano scelti. Quindi sull'Italicum, su queste preferenze, io non ne vedo una grande differenza. Ma la vaccata è che quando si sono accorti di aver fatto una legge che aveva un grosso consenso perché i francesi, perché il ballottaggio francese l'era il massimo dei massimi, ah, via di chi il 5 Stelle ci frega. E allora adesso vogliono rivedere l'Italicum. Io credo, sono convinto, che sarebbe una bella cosa. E se vince il 5 Stelle che va sul 5 Stelle? Se la democrazia è democrazia, col ballottaggio il 5 Stelle. Ma potrebbe andare su anche al PD. Perché il PD potrebbero fare delle coalizioni. Come adesso per il referendum. Isealea con la Camusso. Isealea alle sinistre con le destre. La Meloni. Ma immagini la Meloni insieme alla Camusso. La Meloni insieme alla Camusso. La Casaioci fora, meglio chi è ancora più fuori dalle orbite. Eppure, eppure, pur di copar quella che l'è toscano, che l'è antipatico, che si è permesso di toccare delle cose che erano intoccabili, allora bisogna votarli contro. Ma io credo che la legge di l'Italicum non sarebbe la peggior legge. Perché credo che il ballottaggio è stato dimostrato con le elezioni dei sindaci un'ottima soluzione per il Paese. Per cui io sono favorevole al ballottaggio. Sul referendum credo che tutti abbiano capito dove voterà il sottoscritto. Alla prossima.